È nata dai suoi viaggi in Africa, in particolare nel Togo, la mostra allestita nelle sale di BPL Arte a Lodi. Lo ha ribadito Paola Negrini a nome della Fondazione Banca Popolare in apertura della presentazione del progetto Africa Arte Missione ideato da Luigi Poletti. Il noto artista lodigiano ha messo in mostra bozzetti, dipinti e fotografie che raccontano del profondo legame che lo lega alla gente del Togo. Lo ha riconosciuto nel suo intervento anche Elio Boscaini, missionario comboniano da anni attivo nel paese africano. Ospite dei missionari assieme alla moglie, Poletti ha raccolto nelle sue opere dedicate alla gente del Togo e dalla terra d'Africa le suggestioni che ora propone al pubblico lodigiano, che è già risposto in maniera entusiasta affollando le sale di BPL Arte. Alla mostra sono stati abbinati altri momenti culturali attraverso i quali rafforzare il legame esistente tra le missioni cattoliche in Togo ed il lodigiano. Lo ha ricordato Mario Quadraroli, curatore della Rassegna, che proseguirà fino a domenica 9 aprile, una occasione da non perdere.